poi come fai a fare smr che non puoi neanche tossire si puoi ma dai ma da tua madre quella grandissima zoccola che pastedio posso attaccare non c'è un muro aridaglie buonasera aria 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 la mia dislessia ciao jade scusa la mia dislessia non conosce confini e ragazzi il mio cervello io ho visto una cosa ragazzi ci vediamo tutti e ci vediamo a tutti buonanotte a tutti ci vediamo domani con ale con halo non so più parlare mio dio no no ok ho stretto il culo chi sei non mi parla ma se io tipo ti infilo una freccia qua in mezzo alla croce degli occhi tu come la vedi eeeh che bella vita che bella davvero la vita del buonanotte sono giù per il mare io voglio andare del pirata mi piace il mestiere oh mi piace del mare vagare ma lei è bardo è l'unica che mi ricordavo si sta cosa è assurda comunque samu eh no figurati benvenutissimo anzi che abbiamo il 2022 insomma almeno su twitch allora aspetta so che avevo detto l'ultimo facciamo veramente l'ultimo dunque raga oh tutta la gente che arriva da lì manco uno che ha scritto mortacci vostra che cazzo vanno insegnato nella vita a casa che ho perso l'italia perder l'italia quando si fa se quando tra le mani c'è un dialogo che non c'è mi salvo sta per raga fai culo pezzo di merda or the win eh quando le le dirompenti donna è i lander sto gabbiano ho chiesto al dottor santo di ecco scoprire cosa gli sia successo avrà avuto una malattia no 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 non t'azzardare a cadere nella lava non t'azzardare inutile pezzo di merda non ti azzardare a cadere nella lava io ti devo prendere a schiaffi no 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 non è giusto non è giusta questa cosa tutti quelli con le skin e quattro stronzi pensa prima dentro gas a martello ah mouse ipersensibile ma se becchi uno che sta streamando arrivi mi lasci il follow ho visto che era lui perché sono andato a vedere chi cazzo era perché fosse un bot o una roba del genere questo arriva lascia il follow io non so se avete sentito ciao ragazzi benvenuto questo ho già preso e già andato ma la gente quel minimo di educazione che gli dovrebbero aver insegnato a suon di schiaffi i loro genitori no? ah merda cosa arriva? eh sì ma perché ho appena visto un maiale buttarsi di testa? praticamente mi ha fatto ah fai l'attacchi in salto e lo faccio pure io pezzo di merda e che buongiorno eh qua si sta combattendo non so se gliel'hanno detto boh lui era qui si faceva era proprio lì erano girato di spalle no? così noi stavamo come io ho visto niente lasciatemi qua faccio il mio mucchio vi so niente io non so niente la prima del cervavito ok però appunto vorrei capire dove cazzo sono non voglio dovermi girare tutta la cazzo di mappa a muzzo per trovarne uno sarebbe un po' una cazzata esatto esatto non guardarmi non guardarmi non ti sei un gameplay con la profondità di Forbidden West e allo stesso tempo e allo stesso tempo però appunto si vedevi la gente magari finiva di cantare quello prima che ne so magari ha fatto Adriano Celentano eh già comunque era un po' spazio arrivavo su io ma dicevo la base al tizio pa 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 partiva appunto appena finito Adriano Celentano appigliavo io il microfono ti rendi un po' di un po' di un po' di un po' di un po' comunque Thor da quello che ho visto dalle recensioni da quello che ho letto sembra sembra senza energia aah un refolo d'aria bello vedete realtà aumentata ragazzi lo sapete in un secondo realtà aumentata sono alzato in volo e quindi mi arriva l'aria aah che dolore che dolore questa cosa ragazzi questo gioco mi provoca del dolore fisico e ho di nuovo fame è un classico dicevamo qua che se no non iniziamo più raga 36 per 5 fa 180 36 per 5 fa 180 per 2 viaggi 360 euro no mi sa che ho sbagliato qualche conto sto schiacciando un quadrato per calarmi credo sempre per Horizon la puttana di tua madre Drake ma ma va fangulo ecco perché era bagnato c'era dell'acqua sul tappo della borraccia scusate un attimo indietro perché come riassumere Assassin's Creed in 15 anni non l'ho giocato non l'ho giocato ma dicono sia figo non l'ho giocato ma hanno cagato molto fuori dal vaso carino figo merda figo fighissimo questi sono i DLC del 3 che non li ho giocati quindi non mi esprimo ah no è il 3 proprio figo tecnologia di Ezio strafigo Altair soffre l'età ma figo sono proprio meriti un complimento Dermatweed buonasera ciao lui è Matt ciao ah è Matt ciao caro buonasera no Matt non so se lo conosci uno dei tuoi soci di COD no? ah si ma come fai a sbagliare perché mi è capitato di vederti giocare a COD in live come fai a sbagliare cazzo ma come fai a ricordarti perché non tutti sono come te no è quelle due cose nella vita che mi ricordo ogni tanto fammene ricordare metta proprio con la violenza male spara per uccidere regà l'avete visto vi prego qualcuno faccia una clip qualcuno faccia una clip vi prego non ha schivato è compi con VLC coltellino svizzero vediamo se mi riesce vai in culo te e quel quadribuco di Ulo di Tuma e quel quadribuco di Ulo di Tuma ah perfetto spettacolo da manda dove cazzo vuole lui piano no guardatelo è carino è carino no è bionda e gnocca no lo lasciamoli guardatevelo Hancock bellino lancia lancia si scusa non volevo non t'offendere comunque ripeto le asari ok viviamo per migliaia di anni dobbiamo inventarci una scusa per poter trasformare l'universo nella nostra puttana mmm e l'hanno trovato è Batman non mi ricordo più in che in che versione cos'è che dicevo ah si è Uncharted Batman ci sono fidati di me non è solo per quello se un bambino curioso vuole scoprire chi zampetta sul suo detto si aspetterà papo natale non un uomo pipistrello col mantello giro è veramente gusto inventarvi ste cose mamma mia che schifo dai raga ma che schifo che favore la polizia lo concerà per le feste nah già enterranno conferenze stampa faranno la voce grossa ma la reta è che quello ha mezza polizia nel taschino e tutti quelli che non ha nel taschino li ha comprati gobblepot sei un cazzo con le orecchie a punta no il dominio scusa il dominio è il secondo si il dominio è il secondo il terzo è estinzione estinzione che è quello che fa schifo è il terzo elimina qualche altro cattivone se vuoi potenziare quell'arma che scuola sono giurassic world giurassic world dominio e giurassic world estinzione no 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 alla lunga oltretutto credo che sia anche più costoso la tua prima opzione si uccidetelo ma il bando dove sta bono bono metti via metti via il martello metti via 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 al banam metti via al banam metti via metti via al banam via metti via metti via no bravo ecco vedi cosa mi combini giado mi fai partire gli emboli a tommy fai partire gli emboli a tommy oh ragazzi questo non mi arriva a 30 anni non mi arriva si comunque mi ha muo su una zanzara a ottobre a ottobre bene bene ma madonna le mappe di sto gioco ogni tanto quanto si fottono il cervello secco come io non ho detto niente mi è andato giù proprio come un palo se io le ho detto se io le ho detto ho fatto se io le ho detto se io le ho detto se non è molto veloce ho fatto ho fatto ma nel momento dove ho bisogno le ho mi ha fatto parca puttana guardate che è tosto è tosto è tosto tocca troia non gli ho detto di tirarla fuori l'arma sai che bello non è riuscito ma in fase di mix è arrivato il game director dal fonico di mix e gli fa maestro la voce se mi permette a cazzo di cane dai lei è il solo ad aver visto i razziatori ed era una visione per giunta non invaderemo i sistemi terminus sulla base di un sogno ma pronto come cazzo si guida questo affare del me potrebbero cambiare un po' le pubblicità e sono d'accordo il messaggio di Tommy oddio io voglio mi prego poi come regalo per Natale Tommy mi fai come regalo di Natale un tuo audio dove mi parli in toscano e impreghi in toscano ne ho bisogno un fumo di Armani perfetto così intensi e così italiani fatti un po' a cazzo di cane addio 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 compagna addio non ci dobbiamo lasciare ma hey io dico che è ok io non vedo l'ora di rai dare voglio rai dare addio addio compagna addio 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 ci stava un'ultima canzoncina assolutamente assolutamente qualcuno clippi dicevo che figata dai visivamente quanto è figo ma poi scusa ieri era il ieri era il 26 vabbè il 26 però in effetti non il 25 oh regà voi non avete idea di come sta messo il mio cervello cioè se una persona mi dice una cosa io in linea di massima mi fido non ci pensavo più che era il 26 credo che farò una leggera modifica signori leggera eh leggera è sempre diverso sono nuovo in questo canale cosa portate solitamente ma guarda un sacco di fortnite un sacco di culling incrociamo un altro gruppo sempre vestito da Cherubini e noi come al solito tranquillamente un modino è andato di rifa scusate stiamo facendo un documentario sul carnevale di venezia è possibile farvi è possibile farvi un paio di riprese da mettere nel documentario una piccola intervista e uno di questi qua proprio tirando dritto senza neanche guardare in faccia a Simone che è il ragazzo che gli aveva chiesto andando via dritto assolutamente no io il DOP e il regista che ci guardiamo con volti non mi posso mai più dimenticare eh? no ho capito l'ho persa per un attimo hai detto che si ha detto che si chiama Flip niente ora scrivo Flip per tutta la pagina degli appunti Flip niente porca ti sentiamo io ti ho sentito a che ti ho sentito a ti ho sentito che ti ho sentito a ti ho sentito Grazie a tutti.